Allora l'altro ieri Renzi era in tour elettorale in Trentino Alto Adige camuffato questo tour da missione di stato con 20 persone al seguito su due aerei blu e un elicottero blu e lì ha finalmente scoperto chi è il colpevole delle cose che non vanno in Italia. I talk show ha citato quelli del martedì e del giovedì ma credo ce l'avesse proprio con tutti perché dicono che tutto va male mentre invece va tutto bene e si vuole distruggere no mentre lui è l'unico che vuole costruire è una tesi molto avvincente la crisi colpa dei talk show negativi ma anche originale no anche se ricorda vagamente gli echi di qualcun altro comunque dai è vero la televisione tutta antirenziana proprio per non parlare dei giornali proprio tutti antirenziani a edicoli unificati ha cominciato Repubblica prima che lui diventasse premio nel 2013 con un titolo famoso quello strano fluido della Leopolda così il sindaco diventa fidanzato d'Italia che ricorda un po' quel gran pezzo dell'Ubalda tutta un titolo sexy proprio da commedia rosa anni 70 e poi aggiungeva su un campione di 500 donne interpellate da svg per grazia per sapere con chi vivrebbero un'avventura Renzi batte tutti come flirt ideale 26 per cento come amante per l'avventura di una notte 19 per cento come cavaliere di una serata di gala 20 per cento e anche come salvatore da un incendio 28 per cento proprio quando uno brucia la prima cosa che gli viene in mente è perché non viene Renzi a salvarmi ma anche i giornali di Berlusconi proprio sono tutti contro di lui panorama ha fatto una copertina pierino il fichissimo il foglio Renzi come cromwell ferrara the royal baby il giornale Renzi e rock ma Berlusconi e toni manero infatti poi i due hanno cominciato subito a ballare al patto del nazareno Renzi alle palle titola sallustiche sentiva odore di casa e di palle soprattutto e i poteri e i poteri forti naturalmente anche loro tutti contro Renzi proprio nessuno escluso Marchionne gli ha fatto un mazzo pazzesco gli ha sganciato una bomba termonucleare Renzi al mio totale appoggio sono orgoglioso mi piace molto lasciatelo lavorare De Benedetti è stato terribile da Fazio è un fuoriclasse assoluto durissimo anche briatore proprio Renzi è l'unico che può svoltare detto fatto per svoltare Renzi un giorno si fa prestare una smart da un suo amico qua a Roma e subito Repubblica strumentalizza questo fatto con un altro titolo da KO ha tutto gas sulla smart smart sta per intelligente con una sfumatura di brillantezza è giovane costosa non italiana è fichetta insomma è molto Renzi vedete come sono corrosivi Claudio Cerasa sul foglio ha fatto anche lui un attacco bestiale Renzi sfanala con gli abbaglianti della smart nello specchietto retrovisore di Enrico Letta preme la frizione cambia marcia si mette in scia aziona la freccia e sorpassa e pazienza se la smart non ha le marce nemmeno la frizione perché è il cambio automatico ma la smart di Renzi ce l'ha perché lui è un rottamatore mica per caso fa anche i miracoli sentite la stampa mamma Laura lo ha affidato alla Madonna che deve essere di casa a Rignano perché il posto sembra un paradiso ovunque andava Renzi radunava folle che pareva un messia l'abbiamo visto pronunciare i discorsi della montagna e moltiplicare i pani e i pesci Pontassieve diventata la nuova Meggiugorie la nuova Fatima proprio a scuola gli insegnanti presagendo la riforma Giannini prima ancora che nascesse il governo già gli aizzavano contro gli studenti e infatti quando lui è entrato in una scuola di Siracusa i ragazzini i bambini perfidi gli hanno cantato facciamo un salto battiamo le mani ti salutiamo presidente Renzi muoviamo la testa facciamo festa i piccoli balilla carinissimi Luca Mastrantonio sul Corriere della Sera anche lui cattivissimo ha paragonato Renzi nell'ordine nello stesso articolo a Dante a Cosimo dei Medici a Benedetto Cellini che si chiamava benvenuto ma fa lo stesso Steve Jobs infatti ha fatto subito il Jobs Act e al grande Gatsby dopo questi ganci da tutte le parti è difficile restare in piedi e se cadi è difficile rialzarti Marenzi è atletico e quindi si è rialzato ed è anche piacente infatti è riuscito perfino a far girare la testa alla Merkel che non si è manco filata per quel figaccione di Zipras per esempio ma Renzi le è piaciuto molto sentite il Corriere della Sera non capita spesso alla cancelliera timida discreta e poco incline a lasciar libero l'eloquio es ist klar das sie sich mögen è chiaro che si piacciono dice un membro della delegazione tedesca la controprova è nell'effetto elettrizzante che Renzi ha sulla cancelliera un ciclone così si conclude l'articolo ammazza che fusto no diceva Alberto Sordi poi ci sono i talk show anche quelli sono terribilissimi tipo quello che gli ha apparecchiato la RAI a Natale con Bruno Vespa e la Clerici che si intitolava un mondo da amare dove si vedeva Renzi circondato da bambini pestiferissimi che lo mettevano proprio alle corde con delle domandacce tipo come mai le riunioni del governo si chiamano di gabinetto immaginarsi l'imbarazzo di Renzi Vespa poi l'ha messo a tappeto con una domanda che diceva quando gli italiani potranno comprarsi una pizza in più lui stava per chiamare il telefono azzurro con tutti quei bambinacci quando il solito Cerasa gli ha dato un altro pugno proprio un uppercut inserto del sole 24 ore governo leggero informale confidenziale molto cool molto friendly molto snello molto giovane molto patinato un po via pal un po occupai un po chigi by night un po spogliatoio un po incoscienza un po rivoluzione un po leccaculo potremmo aggiungere noi un attacco ferocissimo ma lui ancora una volta in piedi è atletico l'abbiamo detto a capodanno è andato a sciare a Courmayeur sulla smart no sul solito volo di stato con una piccola sosta a Firenze per dare un passaggio ai parenti e agli amici in valle d'Aosta e sentite l'ansa come l'ha massacrato il premier si è tuffato con un stile sicuro in una non stop di discese durata più di tre ore giacca azzurra occhiali a specchio attrezzatura impeccabile non hanno impedito agli increduli sciatori di riconoscerlo neanche il tempo per lui di mettere gli sci che già sui pendigli innevati ai piedi del monte bianco è tutto un hai visto Renzi il rituale del selfie non è stato negato a nessuno anche il giovane fan più intraprendente è stato accontentato Renzi che è sciatore esperto ha sciato accompagnato dal maestro di sci e istruttore militare Ettore Taufer il capo del governo ha sfoggiato una giacca della nazionale olimpica di soci 2014 e un impeccabile attrezzatura tecnica quando smettono con lui attaccano a prendere a botte le ministre poverette la botticelliana madia la giaguara boschi povera maria elena ce l'hanno tutti con lei il messaggero così la descrive urticante proprio è il fascino maria elena la seduzione boschi i suoi sguardi che salvano l'alleanza di governo la mediatrice dolce la negoziatrice sweet fascinosa lei sweet maria elena faceva pure la madonna in un presepe vivente e sessismo puro un attacco dopo l'altro anche il nostro amico vespa che è peggio dei blei blo voi non lo sapete sentite su panorama come la distrutta maria elena boschi assomiglia sempre di più alle nobile donne rinascimentali che lasciano i beni e gli affetti rapite da una vocazione religiosa una santa teresa davila scolpita dal bernini per santa maria della vittoria a roma che acquista sensualità mentre la trafigge la freccia dell'esta divina ma come si fa a vivere così povere ministri gianni riotta che un'altra linguaccia tremenda va addirittura a sputtanare l'intero governo all'estero con una conferenza in inglese we have photogenic strong smart sexy digitally oriented young prime minister with his great cabinet abbiamo un giovane premier fotogenico forte intelligente sexy digitalmente esperto col suo meraviglioso governo e tutti li a gufare a portare sfiga a distruggere quello che lui crea perciò stasera almeno da parte mia nessuna critica a renzi ne subisce già fin troppe solo un omaggino so che lui lo apprezzerà è un classico tratto dal nerone di petrolini generone che arringa la folla dopo aver incendiato roma no domani ronascerà più bella e più superba che pria bravo grazie è piaciuta questa parola pria il popolo quando sente delle parole difficili si affeziona ora gliela ridico più bella e più superba che pri bravo più bella e più superba che bravo più bella bravo gra bravo si è bravo bravo grazie lo vedi all'ultimo com'è il popolo quando si abitua a dire che sei bravo pure che non fai niente sei sempre bravo gran forma lavaglio stasera